buongiorno mi scusi sto cercando una ragazza che si chiama giusi che brava fai tordelli ma addirittura da questa parte andiamo eccoci qua dalla giusi buonasera giusi da quanto tempo fai tordelli da quando sono sposata è già un bel po quasi 40 anni perché sei iscritta a passione tordelli perché piacciono e non sempre avuto successo ogni volta che li faccio noi riceviamo molto in casa e ogni volta che li faccio molto successo e allora l'ho sempre fatti via diciamo così con gli amici sempre sempre tordelli la sua ricetta una ricetta è un segreto prima di tutto la mia famiglia e la pasta la stira mio marito se che sono veramente buoni perché hanno una bella mano e poi le mie figlie chiudono tordelli i miei generi li contano tutta la famiglia importante per i miei tordelli tutta la famiglia è questa la ricetta che le farà vincere il passione tordelli penso di sì 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 sì